E' bello a tutti ragazzi, sono EpicQueen e oggi siamo su... ok, vedere voi come il titolo perché io sapete che il mio inglese è di merda, comunque andiamo avanti. Ehm, volevo farvi vedere, aspettate eh, ok, se la conclusione è molto nuova e niente, aspettate un po' a manzare, così va molto, beh molto insomma. Spero che si senta il volume, spero, come sempre ragazzi, uno con il trailer, che cavolo è, proviamo con chip, chip, contro, 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 uno a cavolo, vai, no, random, ok, paese, stop. Ok, metto a cavolo, chip, contro, slayer, se non mi sbaglio. Ok, ehi, ragazzi, già vi dico che faccio scripola, già vi dico, niente, se non... Ho sbagliato, no, scusate questa è la prima parte del cacchio. Chi? Chi? No, no, scusate questa è la prima parte del cacchio. Ho sbagliato la prima parte della storia. Sì, va bene, basta che incominciamo a giù. Che c'è questa? Guarda. Niente domande, ragazzi. Ok, ha già vinto. Va bene, questa è una volata. Contro, dì, sì, ok, con questo non ci ho mai fatto. Infatti ho appena iniziato il gioco. Da questa mattina, ecco. Un rock, vai. Perché stai ferma? Mi attacchi. Sono troppo forte, ragazzi. Sono imbattibile. Oramai... Non mi batti adesso, non mi batti nessuno. Secondo questo che ci ho fatto, forse mi farà abbato, forse. E questo va che forte. Ma che... ok ragazzi non so cosa sta succedendo se voi lo sapete commentate cioè scrivetemelo nei commenti una modalità super difficile ma che persona dai dai cazzo e mori non sono stati guarda questo gioco il macello apposto contro lo spadone ninja contro lo spadacino vai del rock no 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 per il tuo ma io vediamo la cosa stiamo su casa passata 5 Mi voglio usci, ragazzi Allora, lo rendi Sì, come c'è non vuoto Chi è? Guarda, guarda Ok, io so No, sono saluto a rando, ma la gara Posso che sono saluto a rando La gara, la gara Contro me stesso Ah, un'ombra di... Ah, ho capito, raga Sarebbe la... sarebbe... Questa sarebbe la mia parte malvagia, diciamo Poi al volato, non lo so Devo ancora vedere Porca mio Questo mi fa anche come fa il culo Sì, sì, sì Cavolo Bam Oh, 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 oh Che è sta mafia? Che è sta mafia? Sì Gli ho tagliato la golla Praticamente Sì Gli ho tagliato la golla Non scherzo Sì 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 Abbastanza forte No, è forte anche Sì Ok, lo sconfitto è benissimo Amicare Casi Faccio un'ultima ragazzi Hande si chiama No, è il gioco no erano vabbè sarai al fatto vivo 20 combattimenti fammi a capire comunque ragazzi se il video vi è piaciuto cliccate il bel mi piace commentate oppure se non siete iscritti scrivetevi e spero voglio dirvi spero che abbiate passato un bel capodanno sono curioso di come l'avete passato e niente ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi